eccoci qui ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di viene a vivere all'estero allora questo video è in risposta alla domanda posso partire in questo periodo e se appena le cose si sistema l'irlanda è ancora un posto che offre quello che offriva prima allora sicuramente ragazzi fate bene a essere così pronti e proattivi nel voler realizzare questo desiderio siamo qui da un annetto su questo canale a parlarne quindi benissimo mi fa piacere che ci sia l'interesse buone notizie sul fronte che gli aerei stanno ricominciando quindi da giugno luglio e via dicendo si riparterà anche con i viaggi internazionali è però riuscire a dare una risposta adesso è che siamo nel mese di maggio per sapere che cosa succederà più avanti è prematuro quello che posso dirvi è che andare a mettersi in una situazione in un periodo storico in cui c'è molta confusione una situazione diciamo precaria in cui c'è molta confusione in giro e le stesse persone irlandesi che avevano un lavoro al momento si ritrovano a spasso è chiaramente come si come c'è su certi sentieri a vostro rischio e pericolo quindi è una cosa che se si può evitare sarebbe meglio per chi ancora deve partire per chi è già qui e si trova travolto da dagli eventi potrebbe essere paradossalmente un buon momento perché gli affitti sono calati visto che magari tante persone se ne sono andate via non hanno intenzione di tornare a breve e perché le economie stanno ripartendo vedo che ci sono già più molti più annunci sui siti di lavoro e quindi magari c'è meno gente che è pronta a cogliere le nuove opportunità non lo so però ad ogni modo chi è qui potrebbe fa bene a studiare la situazione non e non drammatizzare perché qui potrebbe potrebbero ripartire tante cose bene allora è come come vedo questo periodo in generale per l'irlanda in particolare secondo me siamo stati fortunati per il tipo di aziende che sono qui qui ci sono aziende di due tipi ricordiamolo essenzialmente il settore tecnologico quindi le varie google le varie oracle apple facebook c'è tutto tutte le grandi microsoft cioè tutte le grandi aziende del settore amazon del settore internet stanno qui e quindi queste non hanno già recuperato quello che avevano perso parlo proprio di in termini borsistici e in termini di fatturato hanno continuato a guadagnare anche di più di prima quindi non hanno ragione di dover tagliare molte di queste in questo periodo hanno fatto anche delle acquisizioni di altre aziende quindi si sono ingrandite e quindi la cosa è positiva l'altro tipo di azienda è quella farmaceutica quindi qui ogni azienda farmaceutica ogni tanto fa la sparata che hanno inventato stanno lavorando sul nuovo vaccino quindi anche loro dal punto di vista di quotazioni borsistiche sono messe piuttosto bene sono salite molte di queste come non mai quindi questo tipo di aziende non ha subito grossi grossi danni e quindi ci si aspetta che le cose possono riprendere rapidamente facciamo un attimino un discorso storico cos'era successo negli anni 2009 e via dicendo era successo che molte persone irlandesi che lavoravano nell'indotto di queste grandi aziende erano rimaste a spasso perché le aziendine attorno avevano chiuso perché magari non so lavoravano direttamente sull'edilizia o altre cose insomma correlate in qualche maniera all'aumento di popolazione via dicendo e quindi gli irlandesi molti a spasso molti emigrati nei classici stati per loro di immigrazione che sono stati uniti canada australia nuova zelanda e paradossalmente per gli italiani e spagnoli e vi dicendo queste multinazionali hanno continuato a offrire opportunità quasi senza sosta c'è stato sì un periodo diciamo secondo me di due o tre anni in cui anche queste grandi aziende hanno rallentato come ritmi di turnover però nel giro di poco insomma si è sistemata quindi è probabile che come persona che parlano una seconda lingua e vogliono lavorare in multinazionale soprattutto come customer service e ruoli del genere ci potrebbe comunque essere la possibilità io dico potrebbe ragazzi prendetelo prendete il mio condizionale perché non non posso sapere non posso sapere al di là di quello che vedo sui siti internet e delle informazioni macroeconomiche ok quindi 2009 dato così quindi si presuppone possa essere un po una fotocopia comunque vi ricordo l'atmosfera del 2009 2010 quegli anni lì in irlanda era un po deprimente perché c'era una gran paura nell'aria quindi chi aveva la fortuna di aver trovato mantenuto un lavoro in queste grandi aziende solo doveva comunque tenere stretto questo era il messaggio che che sentivamo nell'aria però sicuramente come come ho detto prima gli affitti si riuscivano a prendere delle bellissime condizioni di affitto a poco prezzo a prezzi mai visti diciamo bene allora quindi partire sì partire no aspettiamo aspettiamo non fate piani azzardati mi piacerebbe dirvi sì fate no non non è ancora il momento è chiaramente chi è molto avventuroso chi e non ce la fa più di stare in italia che è pronto pronto è ed è possibilmente lui da solo quindi senza avere famiglia a seguito potete provare tanto alla fine della fiera se non va cioè se va vi prendete magari delle condizioni con un affitto più basso che non niente male se invece non va non avete speso granché per il biglietto era almeno speriamo che che i prezzi lo costo possono rimanere anche se viaggiano più vuoti e da lì si vede però fare un piano in cui io devo riuscire nell'arco di qualche settimana qualche mese a farlo è davvero difficile dirlo è davvero boh non lo si può ancora sapere però i segnali sono molto positivi il nasdaq da solo ha recuperato tutto quello che doveva recuperare e quindi se in america c'è ottimismo l'ottimismo arriva anche anche qui e quindi si aprono magari nuove posizioni ragazzi questo è il mio aggiornamento per il momento video girato verso il 20 di maggio e quando volete ragazzi ci risentiamo su un altro degli aggiornamenti a presto ciao